vai si vede sotto mettiti davanti mettiti il foglio di carta devi metterlo più così vieni avanti tu di orgoglia si vede si vede dietro e di che è trasparente di Occane va bene ok la bestemmia è venuta 5 penalty con penalty significa 10 batti adesso il post che generale del traccio della luna si fa vedere 3 batti 5, 4, 3, 2, 1, vai qui mi sta volando 1, vai qui 2, 1, vai qui i problemi non sono mai 2, 3, 2, 3, andiamo cor mari ammetà col buone passione 16 16 2 2 4 5 6 7 8 9 9 10 13 14 15 15 15 20 25 25 15 15 Molto cani, grande lì. Uno da una parte o da là? Uno parte in volbolo. Uno parte in casa e rimastrava. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Siamo oggi, pronti? Nove, dieci, undici, dodici, tredici, quindici, quindici, quattro, cinque. Quattro, quattro, cinque. Quattro, cinque. Trenta, venti, cinque. Vieni da un'altra parte. Uno. Guarda, faccio un po' da vai. Prendiamo l'altra parte. Quattro, cinque. Sei. Sette. Quattro, cinque. Allo. Vieni da we, dieci. Vai? Lì. Manca. Grazie a tutti. 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 Sono 15. Sono 15. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 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 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 8. 8. 8. 8. 9. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 8. 9. 10. 10. 10. 10. Grazie a tutti 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 2 Grazie a tutti